musica 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 ma un fire ragazzi musica allora brutte teste musica manca paglioni ok ragazzi silenzio in aula musica ma dove si sto forte ok ragazzi andiamo sbocco andiamo entrate ragazzi c'è uno qua sotto c'è uno qua sotto mi credo no ok guardate che sboc tattiche che ho fatto ragazzi cioè ma quanto sono intelligente che co le s*****e non oggi qua cà io l'ho montato vieni qua giù oh arriva da qua manca un solo nemico vuoi staccarlo cracco contro che sennò vado un attimo da lui cracco allora perché dobbiamo fare ma perché dobbiamo tirare le città del mattino e tu mi devi dare un città morto uh barca guarda guarda barca guarda la stream se ce l'hai ma questa è la ferma in base guarda la pistolina la pistolina io non posso togliere una foto forziamo quindi forziamo perfetto bravi ragazzi e dai su stata andiamo a guarda andare a bella riz fatevi vedere andiamo a raga loading questo ma raga smocko window smocko window ho smockato window devo entrare ragazzi ho smockato dobbiamo fare solo una cosa si entra e basta è semplicissimo da barca da barca ma non è piantato va bene no vai no scarico scarico che dice barca sound sound 30 secondi rimasto la terra la mia ultima è pronta posizionare quindi un po' un po' a lui potrebbe prendere le vandal allora ragazzi io ho la mia ultimate potete fare una cosa di molto interessante però siccome ho paura di morire bomba la cookie ok ho recuperato la spike se volete la pazia la faccio barca ok ragazzi come sei nego ce l'ho perito voi che avete ok ragazzi l'ho visto l'ho spettato a me quindi fate cura che dovete fare mi saranno tirando di tutto mi riuscirò a me io vado eh io vado in ulti subito a sinistra subito a sinistra un altro attendo sound sound ragazzi so esattamente dove sia io me l'ho fatta la place uno è window e l'altra sono short l'avete comprato? back 3 io si o lo dobbiamo fare ico no non possiamo vabbè vai facciamo facciamo io ho fatto la place in window avevo ammazzato quello bathroom e poi non ci ho capito qui niente ho lasciato la spike prendo io ehi questo è il mio no no ok io ho perso l'armatura io non pare che uno vi roti da base ragazzi perché qua aveva spottato sì c'è uno base morto 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 un'altra short voglio achillare quello short 35 secondi ah facciamo così 30 secondi rimasto se siete a tele video ragazzi da me entrate provate aspettate vado 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 è back site io vado così per vanno lì dietro ecco ecco c'è una c'è una vp sua prima c'era quindi sicuro c'è anche ora la ripresa la vera così ti spacca ecco sono entrati l'ultima e che cosa se tu flash picchia vai 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 basta scherzare ora muori sono morto uno alzo non muore io sono in A eh morti due in A dovete entrare ancora ragazzi su mi è entrata mi è entrata eh spike io spike e batte getta qui qua via tesi non batte non è batte non è batte ti racconto non è uccidio non è uccidio 30 secondi salvo l'operete vediamo un po che piccola fanno vale la mia ultima però hanno tipato b non è che ci sarà qualcuno c'è resina va bene qua è ho la spike è segretare il zinteria si 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 chiuso segretto c'ho un hp è già andata contro la bomba siamo riviti di saw non ho cariche però comunque si che non c'è nessuna non ho cariche non ho cariche un secondo manca un solo nemico non c'è la morte vabbè la voce è la bb ovvio mi sa che sono un po' po' che ne arriva rompono il muro qua rilassati un po' cos'è il tb è sopra gli scatoloni entriamo Kukin short vieni qua bathroom dammi è bloccato è bloccato Kukin è il nostro Kukin è il nostro Kukin è proprio lì all'angolo guarda vai entriamo lost one come l'ho detto era proprio incastrata gala 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 ma è un po' che è un deceno ma me la rischio io là se vuoi ti alzo il muro qua eh no no però vengono bagni il muro ora non c'è 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 si esforzano questi vengono oh bagno eh infatti stanno tutti qua di nuovo si il bin non c'è nessuno long o una messa in una telecamera c'è un cypher long se vuoi te li slow o barca confermo che c'è un cypher no no tutti là tutti là Gio si vede la mano si vede la mano è morto il cypher vai in nave in a Kukin il bin è clear aspetta io aspetta Gio ma non sono inside questi sono un po' che stanno ruotando qui papà mi ha matta fatta dovevi due dovevi due no 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 perché pick quanto gli hai fatto a Felix? gli hai fatto 80 gli ho fatto grazie che ecco questa sarà memorabile se vi fa comodo io posso sbloccare bathroom cioè potete chiederle queste cose che vi servono no no dico posso sbloccarvi però b silenzio b morto uno mi ha ammazzato i tre io qua c'è un solo nemico ma male eh ultimo giocatore rimasto tappato in corso pure a me forse andai però mezz'ora per se la stu cosa in me 128 avevo fatto quanto aff*** comunque ci va a mettere il muro qua eh l'ho messo qua no no qua qua eh tu io il primo vabbè mettimi che ci sto qua guarda l'alza l'alza il mio capolavoro le mi resista deltati 2 deltati 2 fuori dai piedi non so come mi ha fatto da morire il gente arriva si serve la mano ragazzi è volata in casa è passata che è volata fuori un'altra non ho carico vrin c'era B siamo 3-2 fuori però mi sta che in B lo toghi lo toghi si plantano B telecamera rimossa backside no ma cosa 78 mi hai fatto smirata eee 4 prendi vantala che cosa di meno arrivato arrivato barca arrivato eh sì mi vado mi vado però non come prima no 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 davanti vabbè che prima quella ho il tato ed è volato sopra grazie in B passi qua sì sì è volato anche io solo uno ho sentito sarà quello di prima che va proprio tanto cerco su 2 cookie qua davanti me no uno al bagno ok sono due qua mi hanno tracciato l'estati robottino è volato anche io sai mi sa che sono tutti a ragazzi sai per le breach erano da noi allora il raid avrà il HP tutti a tutti a sono 3 4 short infatti sono tutti in sight sì sì tutti dentro morto morto con la planta c'è un'altra planta morto un altro raid ok due poveri non è uno splanta John to splanta io ho il tato lì dietro short e mi sono ammazzato a sto sto possiamo batterle sento due window qui sono i soliti probabile sì non so come giocano questi non so uno uno eh double sono due sono due sono due morto forse c'è un altro c'è gente morta da c'è anche io lo parco deve curare la barca assist ora c'è non so non so non so perché non ho più lasciato date voi dove là eh sì sta ritornando ci sta oh cavolo sono morto no la reggia in window qua splantano vai vai 30 secondi in massima è pronta bike piazzata giù la testa attento all'ulti questo da lì dietro ora window no a sinistra window è scesa da window manca un solo nemico so esattamente dove siete benulti ci stava spike disinnescata voglio la flashbangarti sono qua e infatti torniamo tutti raga robottino mi botta 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 te l'ho smoccata che coppa non fai io non per il cazzo morto short matron morta morto short morto short c'è un altro short 3 2 2 37 vado 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 entra mi sono alla ultima step screen per long sei curando bagno vedendo bagno jet morto morto non a me window ce n'era un altro qua bene ne avete solo uno short voi perché l'altra da noi io ruota anzi stai tanno ruota ancora l'altro sono tre la uno è lungo uno è lungo uno è lungo no wind ora muori stanno pushando long li ha tra l'ultimo ancora buono il mio b si sembrava spike flanco non fare ragazzi meno tre non ne vanno a stavolta uno è qui guarda i panni hanno spaccato la tua cosa qua qui ok potrei provare per il giro si sto andando bagno ah se riesco steps steps b b morti b b sfer era 1 si mi ha malottato st Devo andarmene ragazzi La bomba è lì dentro Io mi ero stato dovuto andare mi dispiace Volevo andare da Jozzy per farmi curare Ma è morto quindi sono qua Morto uno Dai non dovevo andare Non trovo il caro 30 secondi rimasti Lo fai spingato Bene il bagno Bene il tipista Mamma mia Mamma mia Ne ho fatti tantissimi Questo era un bel game 26-17 Buono bel game E' bellissimo E' troppo bello Ti pushano gli accechi E' fighissimo Ciao No 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 Grazie a tutti